questa alleanza sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista forze politiche quindi che sono chiamati a operare una chiara scelta di campo contro le derive nazionaliste e le logiche sovraniste quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo ricordare che sovranità e popolo sono richiamati nell'articolo 1 della costituzione italiana ed esattamente in quella previsione che interpreto il concetto di sovranità e l'esercizio della stessa da parte del popolo